Il libro The China Study, pubblicato nel 2005, era un tentativo di riassumere il lavoro che avevo svolto come professore e ricercatore nei precedenti 40 anni circa. È una ricerca sulla relazione tra cibo e salute. Ho scritto il libro con mio figlio Thomas Campbell, che ora è un medico. Nel libro abbiamo descritto quello che abbiamo imparato. Parlando di questa relazione tra cibo e salute, ci riferiamo a tutti i tipi di cibi nelle diverse società delle diverse nazioni. Ma i cibi che abbiamo notato essere particolarmente dannosi sono i cibi a base animale o quelli che chiamiamo cibi lavorati. Dall'altro lato ci sono i cibi naturali e vegetali. Questi cibi sono i più salutari in assoluto. Hanno delle capacità straordinarie di generare una buona salute. I cibi animali e cibi lavorati appartengono a una categoria diversa. Non sono cibi naturali vegetali e causano problemi come l'aumento del rischio di cancro, malattie cardiache, diabete e altri. A volte gli studi scientifici sono effettuati in maniera semplice. Si effettua lo studio e se ne esaminano i risultati. In questo caso i cibi sono composti da tante varietà di nutrienti. Quando effettuiamo studi del genere abbiamo molti modi per valutarli in dettaglio. Gli studi sono effettuati sugli animali e sulle persone. Esistono anche i cosiddetti studi di intervento che consistono nel somministrare il cibo e vedere che succede. Possiamo analizzare questa problematica in molti modi diversi. Inoltre possiamo analizzare migliaia di nutrienti diversi così come possiamo studiare migliaia di malattie diverse. È un ambito complesso. Quando cerchiamo le prove della relazione tra cibo e salute dobbiamo prendere in considerazione tanti elementi diversi. Nei miei studi di laboratorio la prima cosa che abbiamo studiato sono state le proteine animali fornite in eccesso rispetto al necessario. Le proteine sono necessarie ma se fornite in eccesso rispetto alla quantità necessaria attivavano il cancro secondo l'esperimento. Questo ci ha portato ad altri studi per capire questa dinamica e come funziona. abbiamo imparato molto. Ad esempio questa dinamica vale sia per le proteine animali che per altri nutrienti. Invece i nutrienti dei cibi vegetali riducono il cancro mentre quelli nei cibi animali tendono ad aumentarlo. Bisogna guardare alla totalità non a singoli elementi. Se consideriamo la totalità notiamo effetti eccezionali non solo sul cancro ma anche sulle malattie cardiache. sul diabete e sulle malattie autoimmuni. È difficile affermare che abbiamo prove complete al 100%. Io la chiamo pecca di prove. Se guardiamo alla totalità delle prove, esse sono fortemente a favore del consumo di cibi naturali vegetali. Se analizziamo i risultati di diverse malattie, i diversi meccanismi e i diversi nutrienti dalla prospettiva della totalità, le prove sono fortissimamente a favore del consumo di cibi naturali vegetali. La dimostrazione più lampante la abbiamo quando selezioniamo delle persone, anche con malattie cardiache gravi, e diamo loro i cibi naturali vegetali. Possiamo curarli e far regredire anche malattie come il diabete. Questa è una prova solida. Una prova lampante e davvero impressionante. Spesso si dice che le proteine animali hanno valori biologici più alti. Per molti anni è stata questa l'idea dominante. Infatti, quando ho iniziato la mia carriera nella ricerca, la mia tesi di dottorato verteva proprio su questo, sui livelli biologici più alti delle proteine animali. Dato che hanno valori biologici più alti, sono migliori. Molti pensano che, quindi, dovremmo consumare più cibi animali perché sarebbero di qualità maggiore. Questo è un mito. Io la considero vera mitologia perché, in realtà, i valori biologici più alti sono legati alla proprietà delle proteine di favorire la crescita del corpo. Nel campo della produzione dal bestiame, questa è un'ottima notizia. Il tasso di crescita più veloce è quello più economico. Ma quando le proteine animali fanno crescere le cellule del corpo, favoriscono anche la crescita delle cellule cancerogene. Se da un lato è un bene perché favorisce una crescita molto veloce, dall'altro è un problema. I cibi animali sarebbero di maggiore qualità perché avrebbero maggiori valori biologici, ma in realtà hanno anche una maggiore proprietà di favorire il cancro o le malattie cardiache. E' questo il problema. Quindi ci chiediamo cosa sia più dannoso. Il latte o la carne? Dal mio punto di vista, non c'è molta differenza, perché sono entrambi cibi a base animale. Molti dicono che il latte non è che carne liquida, perché i due sono molto simili. Hanno entrambi molte proteine, hanno entrambi molti grassi e entrambi mancano quasi del tutto di antiossidanti, che invece sono presenti nei vegetali. Mancano anche di carboidrati complessi, presenti nei vegetali. Sia la carne che i latticini hanno più o meno le stesse proprietà. Ci sono anche altre considerazioni. Notiamo che il latte ha più calcio. L'industria dei latticini ci ripete che questa è un'ottima cosa, perché rende le ossa e i denti più forti. In realtà, più è alto il consumo di calcio, maggiore il rischio di osteoporosi. Non è minore. I latticini hanno questa proprietà del calcio che la carne non ha. Allo stesso tempo, analizzando gli altri nutrienti, notiamo che sia i latticini che la carne favoriscono con la stessa intensità la formazione di malattie. Cotta o no, la carne è sempre fonte di preoccupazione. Se la carne è cotta, specialmente se cotta a fiamma libera e ad alte temperature, c'è la possibilità che si formino nuovi composti, che noi chiamiamo ammine eterocicliche. Ammine eterocicliche. È dimostrato che questi composti danno avvio al cancro in alcune circostanze. A livello pratico, io non credo che siano molto importanti, perché la carne può anche essere bollita in acqua o arrostita, senza cuocerla a temperature troppo alte. Non credo che siano un problema. Il vero problema della carne è che ha una presenza eccessiva di proteine e un alto concentrato di grassi. In più, non ha antiossidanti e non ha carboidrati complessi. Esistono innumerevoli combinazioni di antiossidanti e di carboidrati complessi. Credo che la composizione dei nutrienti nella carne faccia la differenza, non che sia cotta o meno. La cottura può aggiungere qualche altro problema, ma non è molto importante. Nel descrivere la dieta di cui parlo, la baso su cibi naturali vegetali. Non uso i termini vegetariana e non uso il termine vegana, perché il 98% dei vegetariani consuma latticini e spesso anche il pesce e le uova. In questo senso non sono così diversi dai non vegetariani. I vegani, invece, non consumano cibi animali, ma spesso consumano cibi lavorati ricchi di grassi e di carboidrati raffinati, come lo zucchero, oppure sono ricchi di sale. Principalmente i vegani non vogliono consumare cibi animali. Questo è il loro principio. Però spesso consumano cibi che non sono naturali e vegetali, quindi i vegani non hanno un gran vantaggio rispetto agli altri, proprio come i vegetariani. È per questo che non uso quei termini. Parlo solo di cibi naturali e vegetali. È una strana definizione, ma è accurata dal punto di vista scientifico. Spesso molti parlano di diete vegane e io stesso dico che non mi piacciono, quindi c'è un fondo di verità. Molti dicono che le diete vegane hanno delle mancanze alla base. Se analizziamo attentamente le persone che sostengono questo, vediamo che hanno reazioni forti a questi tipi di diete, perché vogliono continuare a mangiare carne e a consumare cibi ricchi di grassi. Non amano le idee dei vegani, le ritengono inaccettabili e spesso diventano molto ostili. Questo li porta a parlare delle mancanze di quelle diete. C'è un fondo di verità, perché i vegani mangiano cibi lavorati. Ma non è il caso della dieta a base di cibi naturali e vegetali, perché non ci sono mancanze. Questa dieta è stata adottata anche da atleti di fama mondiale, da giovani e anziani, da donne e uomini. Questa dieta non ha mancanze di nutrienti di cui spesso si parla. È un mito. Se ci chiediamo chi dovrebbe consumare questo tipo di dieta, dalla ricerca scientifica e dalla mia esperienza personale, emerge che un bambino dovrebbe adottarla appena finisce il periodo di allattamento. Ci tengo a dire che il latte materno è il cibo perfetto. I bambini devono essere allattati, ma appena finito l'allattamento devono mangiare cibi naturali, vegetali, come le verdure, la frutta e i legumi. All'inizio si possono creare dei mix, delle purè per i bambini, ma questa dieta va adottata fin dai primi anni di età. Ed è fondamentale che ai bambini non vada dato il latte di mucca, cosa che invece molti fanno. Io non sono d'accordo con chi sostiene che se i bambini mangiassero questi tipi di cibi, assumerebbero troppe fibre e non avrebbero abbastanza ferro, calcio o altri minerali. Non ci sono prove che sostengono questo argomento. Spesso i nostri corpi si adattano ai cibi che sono disponibili. Con questa dieta i nostri corpi si adattano meglio e sono più in salute. Se invece si comincia con il latte di mucca o altri cibi simili e poi passano a questa dieta, all'inizio ci possono essere difficoltà. Ma i bambini devono iniziare questa dieta non appena finito l'allattamento. Ogni piatto dovrebbe contenere cibi naturali e vegetali, vale a dire verdure, frutta, e legumi tutti naturali, senza grassi aggiunti né olio né carboidrati raffinati, vale a dire lo zucchero. Dobbiamo consumare i cibi che la natura ci fornisce. Cucinarli va bene, certo, ma senza cuocerli troppo. Possiamo mangiare sia cibi cotti che cibi crudi. Nella dieta ideale ci sono le insalate, le zuppe di verdure e molti altri tipi di piatti che combinano frutta, verdure e legumi per creare piatti salutari e gustosi. In alcune aree etnogeografiche nel mondo è anche indicato aggiungere erbe e spezie per dare quei sapori caratteristici che ogni comunità predilige. Questo è sia indicato che è gradevole. Secondo prove scientifiche, se si adotta una dieta con cibi naturali e vegetali, si genera una condizione di salute incredibile per le persone. Inoltre, se tutti la adottassero all'interno della società, si ridurrebbero i casi di malattie. Io credo che si possa ridurre l'incidenza di cancro, malattie cardiache e altre malattie dell'80-90%. Questo ha un enorme impatto sui costi sanitari. Guarda caso, i costi sanitari sono molto alti negli Stati Uniti, ma sono elevate anche in altri paesi occidentali. Se si mangiassero i cibi giusti, potremmo ridurre sensibilmente la presenza di queste malattie. È davvero impressionante. l'effetto sui costi sanitari è notevole. La sanità comprende molti interessi privati. L'impatto interesserebbe anche molti altri elementi della società. Si tenderebbe a ridurre la violenza, sia contro gli animali, sia contro le persone, specialmente nel caso dei paesi del terzo mondo. Mi riferisco ai casi in cui il bestiame viene messo in aree altamente boschive e questo porta ad una violenta deforestazione. Questa è violenza contro l'ambiente. A volte il bestiame viene messo su aree di terra spesso fragile, che viene privata dalle sostanze organiche nutritive, si sgretola e finisce nei fiumi. Questa è una pesante violenza contro l'ambiente. Se adottassimo la dieta a base di cibi naturali vegetali, ridurremmo ogni tipo di violenza contro l'ambiente in molti modi. Ridurremmo la violenza contro gli animali e contro le persone che combattono per avere l'opportunità di sfruttare la propria terra. Invece facciamo violenza contro noi stessi e contro i nostri sistemi economici. Molti di questi problemi che stiamo affrontando non sono problemi distinti fra loro. Questi problemi sono collegati a ciò che scegliamo di mangiare. È davvero impressionante. Non riesco a pensare a niente di ciò che facciamo nella società che potrebbe creare tanti benefici quanti ne può creare una dieta naturale vegetale. Spesso, molte persone mi chiedono se questa dieta può curare o far regredire il cancro. Sicuramente può farlo col diabete e con le malattie cardiache. E i dati ci suggeriscono che questo può valere per altre malattie gravi, specialmente quelle autoimmuni come la sclerosi multipla. Questa dieta riduce il dolore cronico. Inoltre, ha una gamma di effetti benefici molto ampia. Parlando del cancro, che è la mia area di studio, abbiamo dimostrato che è possibile far regredire il cancro. Con gli esperimenti abbiamo capito il suo funzionamento. Io credo che ci siano basi solide nel caso degli umani per far regredire in molti casi anche il cancro. Sicuramente possiamo prevenirlo. Non ci sono dubbi. Ci servono altri dati scientifici nell'ambito della regressione del cancro. Purtroppo non possediamo ancora questi dati perché le istituzioni mediche non vogliono neanche provarci. Il cancro è una malattia spaventosa per molti ed è anche una malattia che provoca tensione e emotività. Quando qualcuno lo contrae, si trova a riflettere e pensa che la cura migliore sia di contrastarlo con agenti chimici, con sostanze tossiche, con la chemioterapia, con le radiazioni o la chirurgia. Spesso si usano queste terapie violente perché ne abbiamo molta paura. Non sono in molti, anche tra i medici, a volere effettuare le ricerche giuste per vedere gli effetti della dieta. Ma le prove che ho raccolto con gli esperimenti in laboratorio e con studi approfonditi dimostrano che il cancro può reagire con le stesse modalità in molti casi. Questo lo sappiamo ormai da decenni, forse da più di un secolo. In alcuni casi, se i malati di cancro adottano questa dieta, spesso il loro cancro sparisce del tutto. Vorrei che gli scienziati dedicassero più tempo alla valutazione seria di questa possibilità. Vorrei che la studiassero in maniera formale e organizzata per farla conoscere al pubblico, ma solitamente non lo fanno. Ho fatto lezioni anche a gruppi di oncologi e di altri scienziati. Ne ho parlato con loro. Spesso sono d'accordo, ma non vogliono consigliare questa dieta perché non sono mai stati preparati nel campo della nutrizione. Quindi sono reticenti. Non vogliono sentirne parlare. Credo sia una delle più grandi tragedie della medicina moderna. Ho scritto il libro The China Study con mio figlio. Era una relazione su ciò che avevo appreso in tutti quegli anni. Nel libro non abbiamo dato necessariamente la risposta al perché si verificano questi notevoli benefici. Inoltre non abbiamo dato una risposta soddisfacente al perché non ne abbiamo mai sentito parlare. Me lo chiedono spesso. Perché non ne sentiamo mai parlare? Oppure come funziona? È per questo che ho scritto questo nuovo libro, W.H.O.L.E. Questo libro si basa su una filosofia diversa riguardo la nutrizione. Il concetto di nutrizione in cui credo fermamente riguarda ciò che avviene all'interno delle cellule. Io sono un chimico biologo e ho analizzato per anni il funzionamento delle cellule e come esse interagiscono col cibo. Lo stupendo meccanismo della natura, che spesso ignoriamo, prende tutti gli innumerevoli nutrienti presenti nel cibo, li riunisce e sceglie quali utilizzare nel processo digestivo, nell'assorbimento e nel metabolismo. Inoltre sceglie come unirli e mescolarli per creare una risposta ottimale. Il corpo vuole costantemente creare una condizione di salute. Questa è la condizione di base del corpo. Le sostanze vengono messe insieme dall'intero sistema. È per questo che mi piace la parola whole, cioè l'intero. È una visione olistica della nutrizione. Abbiamo tra i 10 e i 100 milioni di miliardi di cellule nel corpo. È incredibile, ogni cellula è un universo a sé. Se guardiamo al loro interno, tutte le cellule lavorano insieme in maniera impressionante. Inoltre, le cellule parlano le une con le altre, comunicano tra loro e sanno in che modo agire. Alcune cellule hanno una funzione, altre ne hanno un'altra. Abbiamo scoperto che anche gli organi parlano tra loro attraverso gli impulsi nervosi, gli ormoni e altri mezzi. Tutto il corpo opera come una singola unità, in tanti modi. Tutto parte dalle cellule e si sviluppa in maniera olistica per generare la salute. Il corpo vuole sempre generare salute. Dobbiamo decidere di dare le risorse giuste al nostro corpo. Queste risorse sono i cibi naturali vegetali. Il libro Hall mira a sviluppare questa filosofia. Dobbiamo pensare alla nutrizione come a una disciplina olistica. Oggi la nutrizione non viene insegnata nelle facoltà di medicina. Il concetto della nutrizione è molto fumoso per il pubblico. Per entrambe le questioni la ragione è la stessa. La scienza in questo ambito è diventata molto riduzionista, vale a dire che analizza un nutriente alla volta, indaga su un solo meccanismo di funzionamento e esamina un solo risultato. Anche la pratica della medicina funziona così. Anzi, la medicina si spinge anche oltre. La medicina non si limita solo ad analizzare un nutriente, ma utilizza una sola sostanza con proprietà particolari presa dalle piante e ne crea un derivato chimico. Questa è la definizione di un medicinale. In medicina assumiamo questi medicinali, li assimiliamo e possiamo riscontrare dei benefici nel breve termine, come la riduzione del dolore e altri effetti positivi. Ma al corpo non piacciono queste sostanze chimiche. Quindi, dopo un periodo di utilizzo, ne soffriamo gli effetti collaterali. Il corpo comincia a ridurre la tossicità di questi medicinali. Questa si chiama tolleranza. Il corpo vi si abitua e dobbiamo aumentare il dosaggio o prendere un altro medicinale per combattere gli effetti collaterali. L'idea di utilizzare i medicinali per essere in salute è sbagliata. Possiamo utilizzarli nel breve periodo. Alcuni medicinali possono essere utili, nel caso di malattie gravi, o per ridurre il dolore o per combattere un'infezione grave. All'inizio potremmo aver bisogno di alcuni antibiotici, ma soltanto all'inizio, per allontanare la situazione critica. Dopo la fase critica dobbiamo passare ai cibi naturali vegetali. In questo caso vedremo dei miglioramenti straordinari. Il libro Hall si occupa di espandere questa filosofia dell'utilizzare il cibo per curare le malattie e restare in salute, non i medicinali. È un sistema molto diverso. Negli Stati Uniti mi sono sentito gratificato nel sapere che alcuni personaggi famosi hanno adottato questa dieta o che la conoscono e ne parlano positivamente. Forse il più famoso è il presidente Clinton, che ha letto il libro e conosceva il lavoro di alcuni miei colleghi. Lui ha adottato la dieta perché aveva problemi cardiaci. A quanto pare i suoi problemi cardiaci sono spariti. Lui ha parlato di questa dieta sulla televisione nazionale. E poi ci sono molti altri come Gary Player, il famoso golfista. Anche lui è andato in tv e si è inginocchiato e ha pregato tutti gli americani affinché leggessero questo libro. Gary Player ne è stato un grande sostenitore. Molti altri atleti di fama mondiale hanno adottato la dieta. Sono atleti poco conosciuti fuori dagli Stati Uniti, ma sono di fama mondiale. Più di recente ho ricevuto l'appoggio di un altro grande VIP che conosco personalmente. James Cameron, il famoso produttore cinematografico, il più famoso di tutti. Sia lui che la sua famiglia hanno cambiato completamente vita. Lui è davvero entusiasta di portare questo messaggio in giro per il mondo, specialmente riguardo gli effetti sull'ambiente. Spesso io e lui ci confrontiamo su come farlo. Oltre a queste personalità importanti, ce ne sono molte altre, anche se non ne parlano ancora apertamente. Sono molto felice che molti credano a questa dieta, perché la provano e ne vedono gli effetti. inoltre, in alcuni casi, anche dei dirigenti delle aziende farmaceutiche mi hanno detto che se potessero ripartire da zero, avrebbero scelto questo metodo e non il loro attuale. Ho parlato con un gruppo di dirigenti di aziende farmaceutiche, ad esempio, e molti di loro mi hanno detto questo, ma non possono cambiare, perché sono parte dell'azienda e parte dell'istituzione. Ho scoperto che molte persone di ogni estrazione sociale hanno iniziato a provare questa dieta. E' questo che sostenevamo in The China Study. Quando abbiamo pubblicato The China Study, il titolo è stato proprio The China Study, perché l'editore voleva utilizzarlo per attrarre l'interesse pubblico. Ma The China Study è stato solo una parte della mia carriera, una parte importante, ma comunque solo una parte. Le conclusioni che ho tratto non provengono solo da The China Study, ma da molte ricerche diverse. Quando la gente legge questo libro, noi diciamo che non è necessario che ci credano, soprattutto perché non tutti capiscono i dati scientifici forniti. Ho solo detto loro di provarla. Oggi molti la stanno provando, persino gruppi interi di persone. Il mio figlio più grande ha iniziato un progetto in cui prende un gruppo di persone e da loro i cibi giusti che lui ha preparato. Sono cibi molto gustosi e convenienti. Queste persone li mangiano per una settimana o 10 giorni e ne traggono benefici straordinari. Conosco altri gruppi di persone che l'hanno fatto. Da queste esperienze impariamo che è possibile curarsi da soli da tutti i tipi di malattie in tempi brevissimi. Per quanto sia una realtà estremamente positiva, allo stesso tempo le istituzioni sono reticenti. L'industria farmaceutica è un'istituzione, così come l'industria alimentare, che vuole produrre cibi grassi e cibi animali. Entrambe si oppongono. Anche il mondo della medicina si oppone, perché i medici sono abituati al loro sistema. Persino la comunità scientifica effettua le ricerche in maniera molto riduzionista. L'ho fatto anch'io in passato. Però loro si oppongono perché è da lì che guadagnano soldi. Tutte queste istituzioni purtroppo sono riluttanti ad accogliere questa idea. In alcuni casi ci combattono. Spesso le persone all'interno di queste istituzioni sono arrabbiate e ostili a questa idea. Questo posso capirlo. Posso capire la reticenza da parte di queste istituzioni. Ma perderanno. Perderanno. Non hanno possibilità di vincere. Se continuiamo nella direzione in cui siamo ora, distruggeremo questo pianeta. Come ho scritto in un articolo, io credo che il sistema medico si stia avvicinando all'autodistruzione. è troppo costoso. Non guarisce i pazienti e si autodistruggerà. Dobbiamo cambiare. Non ho alcun dubbio su questo. Non mi importa quanto le persone si opporranno. Il mio lavoro è di raccontare ciò che so per certo. Credo che questo sia il futuro del mondo, in tanti ambiti diversi. Il mio messaggio si è evoluto nel corso degli anni. Io sono cresciuto in un allevamento in cui mungevo le mucche. Le mie prime ricerche come studente e in seguito come professore vertevano sull'idea di consumare più proteine di alta qualità, ovvero più cibi animali. Questo è il mio background. All'inizio ho fatto parte di diversi programmi presso popoli dei paesi del terzo mondo per assicurarmi che potessero assumere abbastanza proteine. Durante gli anni di ricerca abbiamo appreso che quella non era una teoria valida. Quando ho cominciato a parlare di idee come il far regredire il cancro o le malattie cardiache. Come hanno fatto i miei amici e colleghi, ho cominciato a riflettere sull'establishment scientifico e mi sono chiesto perché né io né altri ne abbiamo mai sentito parlare. Più mi ci sono addentrato, più ho capito che esiste un serio problema di fondo. Voglio poter essere in grado di spiegare questo problema. Credo che negli ultimi due anni sono state sollevate questioni come l'ambiente o i costi sanitari. Adesso io stesso vedo i risultati delle teorie errate che abbiamo seguito. Ne ho visto i risultati in tutto il mondo in maniere diverse. È un problema internazionale. Ora spero che ciò di cui sto parlando sia una nuova evoluzione nel mio pensiero. Il merito non è solo mio. Ci sono anche molte altre persone che ragionano in questi termini. Ma credo che pian piano stiamo cominciando a capire come possiamo risolvere questi problemi. più persone riusciamo a coinvolgere in questa filosofia più miglioreremo. Ad esempio qui in Italia ho potuto vedere la situazione quando sono venuto l'anno scorso. Credo che ci sia un interesse forte e vivo che è stato mostrato da vari gruppi e collettivi intelligenti e informati. Lo stesso avviene in molti altri paesi. Sempre più persone si stanno impegnando in questo senso. Credo che questo movimento debba includere persone da diversi paesi e diverse estrazioni sociali. Dobbiamo cambiare tutti. Credo che ciò che sta accadendo qui in Italia sia molto gratificante e promettente. Questo mi fa sentire davvero soddisfatto. Sta accadendo anche altrove, non solo in Italia. sono convinto che l'Italia possa diventare un vero faro per questo percorso. Buongiorno. Come si fa per mandare avanti le diapositive? Ho preparato un po' di diapositive oggi e volevo riproporvi questa vecchia poesia di cui è bene di ricordarci. Adesso abbiamo anche Papa Francesco, effettivamente, che ce lo ricorda. Sora nostra madre terra, che ne sustenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori e terba. Sapete, fino a poco tempo fa, fino al grande sviluppo della tecnologia, l'uomo era obbligato a rispettare a rispettare la terra. Questa frase è una frase di Pietro Archiati. Pietro Archiati è quel lettore, interpretatore di Rudolf Steiner. Eravamo in qualche modo obbligati a tenere conto delle leggi di natura. e non potevamo danneggiare la terra. E oggi, invece, possiamo farlo. Possiamo inquinare l'aria, per lo quale alle tue creature dai sostentamento, e l'acqua, la quale è molto utile, umile e preziosa e casta. E quindi dobbiamo regolarci un po', perché la soluzione che abbiamo, la soluzione individuale che abbiamo, è quella di armonizzarci con la natura. Io tutte le volte che sento parlare di queste nuove diete, ho visto di che piace perfino il libro della tisa anoreica. La tisa anoreica è proprio il colmo del colmo, veramente. Ed è veramente sorprendente come abbia successo. Fa parte di queste diete iperproteiche. Queste diete iperproteiche che molte persone usano per dimagrire. E che funzionano, eh. Ti fanno dimagrire anche di dieci chili in un mese. E poi si ringrassa sistematicamente. E vi faccio vedere poi perché. Ma volevo ricordarvi anche questa frase. Questa frase è di un indiano d'America. È una frase sulla libertà. Il mondo funziona secondo leggi naturali e ci sono molti cicli del mondo naturale con cui si deve vivere in armonia. E quello che si deve cercare è una libertà all'interno di questi cicli, di queste leggi. È una libertà che si fa fatica ad immaginare e che è molto più grande di quella di cui molta gente sino ad oggi ha fatto esperienza. Siamo liberi se viviamo all'interno dell'ordine dell'universo. Questa è una piccola statistica. Si riferisce agli Stati Uniti d'America, ma da noi la percentuale, invece che 8, è 10. La percentuale delle persone anziane, le persone anziane sono gli ultra 65 anni, sapete, a 65 anni, fino a 65 anni siamo giovani, da 65 anni in poi siamo anziani. ed è la proporzione delle persone che prendono sistematicamente dei farmaci per le loro condizioni croniche. Ebbene, il 90% delle persone anziane prendono tutti i giorni uno o più farmaci. E questo è stato utile, fra virgolette, perché, sapete, la speranza di vita è aumentata moltissimo nell'ultimo secolo e negli ultimi, all'inizio fondamentalmente, non c'è più la guerra, non c'è più la fame, questi sono i due grandi... E si è ridotta moltissimo la mortalità infantile. I grandi fattori che hanno fatto crescere la speranza di vita, ma recentemente la speranza di vita si è cresciuta soprattutto per i successi della medicina. per curare l'ipertensione, per curare il diabete, per curare... per correggere questi difetti metabolici, l'ipercolesterolemia, l'ipertriceridemia, i farmaci per squagulare il sangue. Per cui noi riusciamo effettivamente a mantenere sane, non sane, a mantenere in vita le persone con malattie croniche, con condizioni... ma queste condizioni croniche sono... non sono mica obbligatorie? Non è mica detto che invecchiando dobbiamo ammalarci di qualche cosa? Non... Nella grande maggioranza... nella stragrande maggioranza dei casi sono delle condizioni che... che potrebbero essere prevenute semplicemente modificando lo stile di vita. questa è una diapositiva che ho rifatto dalla... c'è stata quella serie di articoli sull'ANSET sull'ambiente obesiogeno e che vi fa vedere l'interesse che ha oggi il mercato della sanità perché noi ci ammaliamo. la sanità è il più grande mercato nazionale è la più grande industria nazionale ce l'ha ricordato il premier Monti quando diceva no bisogna investire in sanità perché se noi investiamo in sanità aumenta il PIL più noi ci ammaliamo più aumenta il PIL e diminuisce lo spread e questa economia che punta alla crescita e porta a un ambiente obesiogeno l'ambiente obesiogeno è l'ambiente di vita sedentaria ed è l'industria alimentare di oggi che naturalmente porta all'obesità e alla sindrome metabolica e queste portano alle malattie croniche ma questo aumenta il mercato della sanità e quindi aumenta il libero mercato vi ricordo questa pubblicazione recente sul New England Journal of Medicine dove sapete è soltanto negli ultimi 10-12 anni che gli scienziati hanno scoperto hanno dimostrato che l'obesità ha a che fare con quello che noi mangiamo perché prima non lo si sapeva anzi tutti noi lo sapevamo ma gli scienziati no però adesso gli scienziati hanno fatto gli studi prospettici e questo è lo studio dei lavoratori della sanità negli Stati Uniti sono tre studi che hanno coinvolto più di 200.000 persone che sono seguiti ormai da più di 30 anni e vi fa vedere quali sono i fattori che c'è una classifica proprio al primo posto i fattori obesiogeni sono le patatine al secondo posto ci sono le patate qui al terzo posto ci sono le carni conservate a pari merito con la Coca-Cola e le altre bevande zuccherate e poi ci sono le carni rosse e poi ci sono c'è il burro e le farine raffinate i dolciumi e le farine raffinate mentre invece quello che aiuta a non ingrassare sono i cereali integrali le noci nocciole mandorle e le verdure e la frutta e finalmente anche nel mondo della ricerca c'è questa questa grande rivoluzione gli studi fatti negli ultimi 20 anni hanno dimostrato che l'obesità ha qualcosa a che fare con quello che mangiamo e si è anche scoperto una grande cosa che questo è un grande studio di corte fatto negli Stati Uniti che mostra qual è il rischio di diventare obesi in funzione della proporzione di proteine nella dieta e vedete che più proteine noi mangiamo più si diventa obesi e sono in particolare le proteine animali che hanno questo effetto perlomeno nello studio americano viene fuori così nel nostro studio europeo questo è lo studio EPIC sono 500 mila persone che seguiamo da 20 anni e siamo andati a vedere chi è ingrassato e chi non è ingrassato e chi ha un'alimentazione con un 20% di calorie che vengono dalle proteine ingrassa chi ha invece un'alimentazione che è inferiore al 14% perché inferiore a quindi mediamente noi mangiamo il 15-16% delle calorie che noi mangiamo vengono dalle proteine ma è circa il doppio di quello di cui abbiamo bisogno di quello che accomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità chi ne mangia di più ingrassa con buona pace della tisanoreica perché il meccanismo è il meccanismo di efficacia di queste dieti per proteiche che intossicano il sistema nervoso intossicano il centro dell'appetito e e quindi la gente di fatto mangia meno però rimane con l'idea che è meglio mangiare tante proteine ed evitare i grassi e i carboidrati e più proteine si mangiano più si ingrassa e questo è anche un'altra componente dello studio epiche si è trovato questo indicatore di consumo questo bioindicatore questo indicatore biologico del consumo di zucchero andando a misurare il saccarosio nelle urine il saccarosio normalmente viene digerito però il saccarosio nelle urine è un buon indicatore del consumo di zucchero e guardate come aumenta il rischio di diventare obesi in rapporto al consumo di saccarosio nelle urine alla presenza di saccarosio nelle urine e come invece la vitamina C nel plasma è associata a un minor rischio queste 500.000 persone ci hanno dato dei campioni di sangue e ci sono utilissime per studiare gli effetti dell'alimentazione e di tanti altri fattori nella insorgenza delle patologie il principale problema di salute pubblica che c'è oggi nei nostri paesi è la sindrome metabolica la sindrome metabolica definita dalla presenza di almeno tre di questi fattori la circonferenza vita larga i trigliceridi alti la glicemia un po' alta il colesterolo buono un po' basso la pressione un po' alta se ci sono tre di questi fattori si dice che c'è la sindrome metabolica e la sindrome metabolica il termine è stato inventato dai diabetologi aumenta il rischio di diabete di malattie di cuore ma aumenta anche il rischio di cancro e lo si sa negli ultimi anni grazie a questi studi prospettici di cancro del fegato del colon della mammella della prostata dell'endometrio del pancreas del rene la sindrome metabolica è associata all'alzheimer è associata a un sacco di patologie croniche di oggi circa il 30% della popolazione italiana adulta ha la sindrome metabolica è più frequente al sud che al nord e questo è il nostro è la componente italiana dello studio EPI che sono le 50.000 persone che seguiamo in Italia vedete come il rischio di ammalarsi di malattia coronarica in funzione dei fattori della sindrome metabolica se c'è la sindrome metabolica cioè tre o più fattori c'è un rischio di 4-5 volte superiore rispetto a chi non ha nessun fattore della sindrome metabolica questo è il rischio di ammalarsi di ictus e per prevenire la sindrome metabolica quello che occorre fare è la dieta mediterranea abbiamo fatto delle sperimentazioni cliniche con la dieta mediterranea tradizionale la sindrome metabolica regredisce si ritorna a normali e questo è sempre la componente italiana dello studio EPIC che mostra come varia il rischio di un ictus cerebrale in funzione del punteggio di dieta mediterranea che sono delle classificazioni estremamente grossolane noi prendiamo i questionarii alimentari prendiamo le persone che stanno al di sopra della mediana il 50% delle persone che mangiano più cereali gli diamo un punto il 50% delle persone che mangiano più verdure gli diamo un punto più frutta gli diamo un punto più pesce gli diamo un punto più carne gli togliamo un punto più burro gli togliamo un punto più formaggio gli togliamo un punto e così ciascuno ha un punteggio e chi ha il punteggio alto guardate ha un rischio di ammalarsi di ictus cerebrale che è la metà rispetto a chi ha un punteggio basso questo è il grande studio europeo le 500.000 persone si mostrano come aumenta il cancro dell'intestino in funzione del numero di fattori della sindrome metabolica e questo è lo studio EPIC in Italia che mostra come si riduce il rischio di avere un cancro dell'intestino sapete il cancro dell'intestino è il tumore più frequente oggi nei maschi il tumore più frequente è la prostata grazie ai medici soprattutto che l'hanno fatta aumentare tanto ma nelle donne è la mammella mettendo uomini e donne assieme è il tumore dell'intestino e vedete come si riduce il rischio di tumore dell'intestino all'aumentare del punteggio di dieta mediterranea che addirittura che ha un punteggio di 8-11 rispetto a un punteggio 0-1 ha un rischio di tre volte inferiore con una classificazione così grossolana come quella che vi ho mostrato e questo è il rischio di ammalarsi di cancro della mammella in rapporto alla sindrome metabolica dopo la menopausa le donne che hanno la sindrome metabolica hanno un rischio di due tre volte superiore di avere un cancro della mammella e questo è il rischio di ammalarsi di cancro della mammella in funzione del punteggio di dieta mediterranea questo è il rischio di ammalarsi di alzheimer è una meta-analisi e ciascuna riga rappresenta uno studio è una meta-analisi degli studi sul rapporto fra diabete e alzheimer la sindrome metabolica è associata all'alzheimer e questi sono due studi che vi mostrano il rischio di sviluppare un mild cognitive impairment qualche difetto di memorial di sopra di un certo punteggio in rapporto alla è un studio fatto alla Columbia University e a New York in rapporto alla sindrome metabolica vedete queste sono le sopravvivenze senza mild cognitive impairment di queste persone anziane è una sopravvivenza ma qua non è zero e qui è 55% e queste sono le persone che hanno il mild cognitive impairment ed è la sopravvivenza senza alzheimer e vedete che c'è una relazione molto forte chi ha un punteggio basso di dieta mediterranea ha un rischio alto di sviluppare un alzheimer stiamo facendo uno studio pilota per la prevenzione dell'alzheimer con l'alimentazione vi accenno a questo progetto che sta per partire questo studio che si chiama MMM che vuol dire Metabolic Syndrome Mediterranean Diet and Metformin Metformin la metformina è un farmaco che è usato per il per il diabete vi ho mostrato che la dieta mediterranea è associata al diabete è associata all'infarto all'ictus ai tumori alle demenze ad altre malattie croniche la metformina è un farmaco usato da più di 50 anni per la cura del diabete e si è visto che i diabetici che sono trattati con la metformina si ammalano meno di cancro dei vari tipi di cancro ma molto meno e si è capito soltanto recentemente il meccanismo d'azione della metformina la metformina agisce attivando gli stessi geni che sono attivati dalla restrizione calorica se tu diminuisci le calorie si attiva in particolare AMPK la kinasi dell'adenosine monofosfato che è un pochettino il regolatore della benzina che dice se si attiva AMPK vuol dire che siamo in rosso ci manca benzina e allora modifichiamo tutti i meccanismi del nostro corpo per risparmiare energia in qualche modo e modifichiamo anche la proliferazione gli stimoli alla proliferazione cellulare per questo che la restrizione calorica sapete cento anni di esperimenti negli animali di laboratorio dimostrano che se gli dai poco da mangiare vivono di più e si ammalano meno di cancro se gli dai molto poco da mangiare muoiono il la metformina è deriva da questa pianta la galega officinalis che è usata fin dal medioevo per ma queste sono le sostanze queste guanidi che ci sono nella galega che però hanno un certo livello di tossicità sono state modificate nel tempo e si è arrivati alla formula della metformina che è un farmaco molto molto tranquillo è controindicato teoricamente almeno nelle persone che hanno un'insufficienza renale perché potrebbe aumentare tantissimo la concentrazione nel sangue la metformina trattando le persone che hanno un pre-diabete con metformina si previene il diabete questo è uno dei grandi studi che mostrano l'effetto della dell'effetto della dieta questo è il rischio di ammalarsi di diabete in quelle che prendevano al placebo quelli che facevano un cambiamento di stile di vita e quelli che prendevano la metformina quindi non è così efficace come il cambiamento di stile di vita per la prevenzione del diabete ma è piuttosto efficace e questi sono gli studi che hanno guardato probabilmente non potete leggere ma mettendo assieme questi studi si vede che il rischio di ammalarsi di cancro nei diabetici è dello 0,66 cioè di un terzo in meno dei diabetici che prendono la metformina rispetto ai diabetici che non prendono niente o che prendono altri farmaci ed è per questo che abbiamo inventato questo questo è il meccanismo d'azione della 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 metformina che agisce attivando questo AMPK che AMPK agisce attivando il complesso della sclero tuberosa TSC che è quello che è inibito inibito da tutti i fattori di crescita e che e lui a sua volta inibisce MTOR che è il grande stimolo della proliferazione cellulare le cose sono piuttosto complicate non sto a entrare troppo nel dettaglio ma è la gran parte dei farmaci antitumorali che vengono messi sul mercato oggi agiscono o cercando di bloccare tutti questi punti rossi che ci sono qua che sono i fattori che fanno ma basta mangiare poco e questo si attiva da solo e questo è uno studio che abbiamo in corso uno studio pilota in cui chiediamo la collaborazione delle per ora solo delle signore ma a partire da settembre anche degli uomini che hanno la sindrome metabolica e quindi chiediamo alle signore di misurarsi la circonferenza vita se sono più di 85 centimetri facciamo un esame del sangue per vedere se ci sono anche gli altri fattori e se hanno la sindrome metabolica le prendiamo nello studio le dividiamo in due gruppi metà che prende la metformina metà che prende il placebo e poi ancora in due gruppi metà che in cui facciamo un grosso investimento per cambiare la dieta per aiutarle a cambiare la dieta e metà in cui diamo semplicemente delle raccomandazioni per cambiare la dieta e e ci aspettiamo l'obiettivo di questo studio è di ridurre le malattie croniche ridurre il diabete ridurre il infarto ridurre l'ictus ridurre il cancro ridurre l'alzheimer e ridurre anche altre patologie croniche ridurre l'artrite per esempio e le raccomandazioni sono le raccomandazioni del fondo mondiale per la prevenzione del cancro che conoscete già probabilmente perché io le proietto sempre chi è venuto alle mie conferenze e dice basate l'alimentazione quotidiana prevalentemente su cibi di provenienza vegetale con un'ampia varietà di cereali non raffinati legumi verdure e frutta che è la dieta mediterranea tradizionale la dieta mediterranea tradizionale erano i cereali perché una volta si macinavano a pietra e non riesci a fare la farina zero zero macinando il grano a pietra i legumi tutti i giorni poi nella dieta mediterranea tradizionale c'erano anche certe carenze il contadino siciliano mangiava la pasta con le fave tutti i giorni dell'anno eccetto il giorno della festa del paese in cui ammazzava la gallina ma la nostra raccomandazione è il farlo di una grande varietà non tutti i giorni la pasta con le fave ma un giorno il riso con i ceci un giorno l'orzo con le lenticchie un giorno il cambiare la grande varietà delle verdure stagionali vi dico una cosa ci sono i piselli freschi adesso approfittatene perché dura solo qualche settimana non è il momento di andare a prendere i piselli suggelati ci sono i piselli freschi anche le fave e poi ci sono le altre raccomandazioni quella di evitare le bevande zuccherate di evitare le carni conservate di limitare i cibi ad alta densità carorica e allora vi parlo un attimo della consapevolezza alimentare ne parlerò nella conferenza io faccio questa conferenza ogni primo mercoledì del mese all'istituto dei tumori di milano alle sei del pomeriggio e il tema della prossima conferenza riguarda la meditazione la meditazione e la consapevolezza alimentare e questa è una delle diapositive di quella conferenza partiamo da il livello di consapevolezza più basso proprio il livello materiale mangiare per riempirsi la pancia è quello dell'attante l'attante vuole riempirsi la pancia non ha tanta consapevolezza e piange quando ha fame non so e alcuni di noi rimangono praticamente a quel livello però più facilmente evolviamo verso il livello sensoriale che è dal momento dello svezzamento a tutto il primo settennio che si creano i gusti noi gli diamo lo zucchero ai bambini perché perché così poi gli facciamo assaggiare la coca cola allora la nonna gli dà la coca cola allora rimarrà affezionata alla coca cola per tutta la vita è il momento in cui c'è la grande la grande imitazione dei grandi nei primi sette anni proprio è veramente è uno dei momenti in cui possiamo veramente fare molto male ai nostri bambini e chi rimane a questo livello è il tipico frequentatore delle trattorie la domenica cioè proprio andare lì per avere tutti gli antipasti per avere tre primi e finire con il limoncello il limoncello dà una scarica di zucchero talmente forte che ti fa alzare l'insulina che tutto quel grasso che avete mangiato passa direttamente in cellulite qualcuno un po' più evoluto io sono rimasto a questo livello qua insomma a livello sentimentale mangio le buone cose che prepara la mia mamma la mia nonna mia moglie non ha mai preparato una torta buona come quella che faceva la mia mamma è il periodo del il secondo settennio tra 7 e 14 anni no e e quando bisogna avere delle persone con cui identificarsi quando un bambino è fortunato sia un maestro è fortunato se ha qualcuno che gli racconta le favole che lo tiene lontano dalla televisione sono i pazienti che vengono dottore mi tolga tutto ma non il cappuccino con la brioche no a quello non ci posso rinunciare poi c'è il giudizio intellettuale e sono gli adolescenti no ma no anche la scuola media no lo studio sono i bambini che vengono a casa e dicono al genitore di non fumare perché fa male insomma ci sono queste cose il giudizio intellettuale è un po' è il livello che raggiungono i nutrizionisti c'è il colesterolo alto allora riduco i grossi saturi sono grasso allora devo fare la dieta 1200 calorie no che si ragiona così in un modo piuttosto meccanico il terzo settegno quello degli adolescenti è il giudizio ideologico sono i ragazzi che diventano vegetariani vegani per per non per il rispetto degli animali no che a volte rischiano di mangiare molto male perché la coca cola e le patatine sono perfettamente vegetali c'è poi il giudizio di consapevolezza sociale sono gli adulti gli adulti che si preoccupano del cibo per la comunità dell'uguaglianza degli esseri umani sono le mamme che si organizzano per cercare di cambiare la mensa dei bambini a scuola e sì anche io ho una piccola compagnia sono metà fra il sentimentale e il sociale ecco personalmente e poi c'è il settimo livello di consapevolezza che è la giustizia che è scelgo il cibo che rispetta la terra mi chiedo quanto danno abbiamo fatto al pianeta producendo quel cibo prima di mangiarlo il giudizio di chi quando si mette a tavola dice una preghiera o fa comunque un cenno di ringraziamento ringrazia chi ha prodotto quel cibo chi l'ha lavorato chi l'ha cucinato e si chiede da dove viene quel cibo si chiede quanto sono stati sfruttati dei bambini per quel cibo si chiede quanto è stata sfruttata male la terra e il rispetto dell'ordine dell'universo è il messaggio di francesco e vi lascio con il messaggio di francesco grazie